Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Sassuolo Allora ragazzi quest'oggi ultima puntata della seconda stagione Concluderemo in bellezza con la finale di Coppa Italia contro il Piemonte Calcio Dopo che nella scorsa puntata abbiamo matematicamente vinto il campionato in modo insperato Però sta di fatto che ci siamo riusciti Grazie soprattutto a debolezze tra virgolette altrui Comunque quest'oggi è appunto finale contro il Piemonte Calcio Quindi contro la Juventus e festa finale in casa davanti ai nostri tifosi contro l'Ellas Verona E qui teoricamente dovremmo alzare la Coppa al cielo Ma come al solito ragazzi prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace A riscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio perplessità E anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione Detto ciò raga senza perdere tempo andiamo subito in campo La formazione l'ho già preparata Abbiamo ovviamente consigli fra i pali probabilmente all'ultima partita Con la maglia del Sassuolo Poi essendo molto anziano penso di venderlo Comunque in difesa Gudmund Somba di Escil Kumbulla e Kappa L'unico troppo stanco era Perez Quindi c'è Kumbulla al suo posto Centrocampo Pessina Matteo Serriga Juno Traoré Al posto di Dine Bimbe Anche lui troppo stanco E infine in attacco abbiamo il tridente delle meraviglie della Vega Madueche e Cerchi Occhio a Piemonte Calcio Con una formazione stranissima Perin fra i pali Poi Meguali Trezzino sinistro Matip Benzebaini Che sarebbe un altro esterno Come difensore centrale Poi Dragosin come trezzino destro Centrocampo Con Zigankov Un altro esterno sinistro E Locatelli McKenni esterno destro Luis Diaz esterno sinistro Di Bala C.O.C. E Ken Punto centrale Moese Ken Che abbiamo utilizzato l'anno scorso Con il Napoli in carriera Ed eccoci qua raga In diretta Dovrebbe essere San Siro Questo perché è l'unico stadio italiano Che abbiamo quest'anno su FIFA Sassuolo contro Piemonte Calcio Abbiamo appena vinto un campionato Quindi se Piemonte Calcio Proverà a sottrarci questo possibile double Per noi Visto che si tratta di quello appunto L'unico peccato L'unico rimpianto Di questa stagione È l'Europa League Dove siamo usciti veramente troppo presto Anche Immediatamente Soprattutto in un modo strano Perché non si allinea Ma due Ecco ok Si è messo a posto Benissimo Comunque È la prima volta che vedo L'ingresso con i bambini Tipicamente io schippo sempre Le introduzioni Però effettivamente In Serie A Quest'anno Hanno fatto questa Cosa simpaticissima Guardate qui come corrono i bambini Che carini Comunque Le formazioni Le abbiamo già viste Teoricamente possiamo già andare Questa è una buona opportunità Per vedere Chi c'ho in panchina Quindi Meslier Timber Illich Dinebimbe Almada De Frelle Enchetea Quindi Chiaramente i soliti panchinari Che porta sempre La formazione È la migliore possibile Che potevamo schierare In questa occasione Fatta eccezione Per Dinebimbe Però come detto in passato Je non traurè Ultimamente Lo vedo più in forma Rispetto a Dinebimbe Quindi ci sta Che giochi lui E poi l'unico Che non gioca Dei titolari E Perez Però c'è Con Bulla Che si è dimostrato Affidabile Per tutta la stagione Ma non penso Che mi tradirà Proprio all'ultimo Ma le ultime parole Famose Comunque Beh raga Possiamo andare in campo Iniziamo Battiamo Prima noi Perché vedo Noni Maduwege Che si sta Avvicinando al pallone Infatti è così Forza che si parte Vediamo se si muovono Eccolo qui Il nostro numero 9 Bellissimi in quadratura Raga Si parte Inizia la finale di Coppa Italia Ragoccio qui Bellissimo Filtrante Dimose Keime Dentro Per Di Bala Che sblocca subito La partita Partenza shock Per il nostro Sassuolo E Di Bala Riesce Qui a sbloccare subito La partita Peccato Veramente Peccato Però E' ancora tutto In ballo E' troppo presto Per darci Già per morti Quindi Forza ragazzi Crediamoci Ragoccio ancora Piemonte Calcio Che prova a rendersi Pericoloso E' un po' Palla Per Meguagliar Dentro Moise Ken Ancora Moise Ken Facciamo attenzione Qui grandissima parata Da parte di consigli Ragoccio proviamo a rispondere Non in ma due Che vede l'inserimento Di capa Anche se teoricamente Non dovrebbe inserirsi Occio Il cross dentro Anticipato Chiara cerchi Ma la palla è lì Addirittura esce per in Mai visto un portiere Uscire così Mai visto un'intelligenza Così sviluppata Da parte di un portiere Ragoccio pari in avanti Ancora Moise Ken Il cross dentro Non passa Non la prende nessuna Alla fine La prende Me Kenny Che becca la traversa Ragoccio Non in ma due Che Buonissimo L'appoggio per cerchi C'è della vega Dentro Che non riesce a calciare Alla fine La palla rimane lì Occio della vega Pessina Si gira e calcia Parata Di per in Ragoccio Non in ma due Che vedi cerchi Che ha spazio Cerchi Non è fuori gioco Va col destro cerchi Che si è mangiato Ragoccio qui Perché Kappa Ha fatto quella cosa Il tiro di Ken Esterno della rete Si conclude il primo tempo Ma qui Stranissima animazione Da parte di Kappa Comunque È una partita È una partita molto complicata Molto combattuta Però Stiamo dimostrando Ampiamente Che possiamo E meritiamo quasi Di pareggiarla Questa partita Quindi Sicuramente Siamo vivi Ci siamo dentro Forza ragazzi Per la ripresa Ragoccio Matteo Serrica È buono l'appoggio Per cerchi A cercare Troverè Ancora è buona Dentro Cerchi Ci riprova E stavolta Arriva la parata Di per in Calcio d'angolo Matteo Serrica Dentro Su Badia Sashill Che come al solito Riesce a svettare Su tutti Ma è sempre Impreciso Ma occhio Adesso Di bala Che qui prova a calciare Tiro estremamente centrale Non sembrava neanche così forte Ma consigli Ha dovuto Respingerlo in corner Raga Provo un triplo cambio Estremamente Offensivo Ma chi è questo Castelli Sarà un giocatore Creato dal gioco Comunque Triplo cambio Per noi Dentro Un che ti ha Al posto Di Vabbè Qua dicono cerchi Per 8-8 Pessina Per la doppia punta Poi appunto Fuo di cerchi Dentro De Frel E dentro Anche Dine Bimbe Al posto Di Matteo Serrica Per avere Addirittura Un C.O.C. In più Ragazzi ho qui Proprio Castelli No vabbè ragazzi Consigli La palla Stava lì Non l'ha presa Vabbè Oggi è una partita Un po' così Però ci può stare Una finale Il Piemonte Calcio A tratti Si è dimostrato Veramente superiore a noi Questo gol È praticamente Un bug Del portiere Però Non conosco Questo Castelli Sicuramente Sarà un giocatore Creato dal gioco Qui Purtroppo Si è messo Bader Schill In mezzo Quindi È stato Probabilmente Un po' confuso Il portiere Però non c'è stata Nessuna deviazione È ridicolo Questo intervento Di consigli Ma quest'anno È così Raga Proviamo a chiudere In attacco Palla dentro Per Dine Bimbe Che riesce a calciare Ma viene murato Da una difesa Pazzesca La parte del Piemonte Calcio Durante tutta La partita È stato così È stata una partita Veramente complicata L'hanno preparata bene I nostri avversari Quindi Bisogna riconoscere Che questa volta Sono stati più forti loro Termina qua La partita Peccato Teniamoci strettissimo Il campionato vinto È chiaro che Perdere una finale Fa sempre molto male Però devi accettarla Alla fine Con una sportività Questa sconfitta Comunque alla fine Le nostre chance Le abbiamo avute Anche più di una Anche abbastanza nitide E palesi Tra rigolette Per oggi C'era un super per in La palla Non voleva entrare Strani errori Da parte dei nostri Però Ripeto Ci può stare Ecco forse Paradossalmente Quest'anno Era più credibile Vincere una Coppa Italia Che un campionato Però Alla fine Abbiamo vinto il campionato E sicuramente L'anno prossimo Vediamo un po' Che cosa succederà Io non penso Di riuscire Già a puntare Al triplete Però sicuramente Proveremo Ad essere competitive In tutte le competizioni Provando a migliorare Sempre di più La nostra squadra Ok raga Adesso andiamo a chiudere Questo campionato Cerchiamo di chiudere In bellezza Ci manca solamente Questa partita Contro il Verona Che sulla carta È praticamente Inutile Per noi Poi non so Se l'Ellas Ha ancora Motivi Per fare Tre punti Vediamo Sono tredicesimi 38 punti C'è uno stacco Assurdo Con l'Udinese Non ce l'avevo mai Fatto caso Diciamo Sì Possono perdere Qualche posizione Ma alla fine Ma alla fine Quello è Quindi Praticamente È una gara Inutile Per entrambe Le squadre Comunque Ho cercato Di fare Una formazione Molto particolare Chiaramente Oggi si punta Semplicemente A vedere La premiazione Con frattesi Che a questo punto Dovrebbe Alzare La coppa Diciamo Che chiaramente Il nostro capitano Consigli Oppure Mateus Enrique Più Verosibilmente Diciamo Che farò entrare Mateus Enrique Nel secondo tempo Così Il capitano Dovrebbe Essere Assegnato Automaticamente A lui Spero Almeno Perché Purtroppo A partire In corso Non si può Assegnare La fascia Di capitano Comunque Raga Appunto Mesileo Fra i pali Poi Riva Paoleta Perez E Goden Sono I due Terzini Giovani Del nostro Vivaio Poi Centrocampo Ilic Frattesi Dine Bimbe In attacco Invece Da primo minuto Cartiera Sinistra Redondo A destra Enketia Punta Centrale Occhio All'Ellas Che Sicuramente Farà La partita Della vita Di solito In questi Casi FIFA Non capisce Che è una partita Inutile Quindi Fa fare La partita Della vita A prescindere Comunque Non polemizziamo Fino all'ultimo E andiamo In campo E cerchiamo Di goderci Questa festa Nella speranza Che ci sia Effettivamente La premiazione Alla fine E occhio subito A Caprari Che come detto Sblocca subito La partita Immaginavo Che l'Ellas Facesse La partita Incredibile Infatti È un gol Che sicuramente Ci può stare Però qui Destro Così A giro Da parte Di Caprari Violentissimo Alla fine Stiamo parlando Di Caprari Con tutto il rispetto No Vabbè ragazzi Sì Ovviamente Ovviamente Ok raga A fine del primo tempo È una partita Ingiocabile Non mi hanno fatto fare Due passaggi Di fila Meno male Che è una partita Che non conta nulla Altrimenti Sarei impazzito Eccolo qui Il 3 a 0 Ma non c'erano dubbi Ragazzi Il Verona Gioca anche Estremamente meglio Rispetto al Piemonte Calcio prima È assurdo FIFA È assurdo E ripeto Meno male Che è una partita Che non conta nulla Altrimenti Uh Si avrebbe dato di pazzo Guarda qua Guarda qua Cioè ragazzi Ma chi è Van Dijk Chi cacchio era Quello Senza senso Ce la facciamo A togliere sta palla A questi Eh no Che pressing Che pressing Mamma mia Tra l'altro Perché Riva Non c'ha il numero Dietro la maglia Cioè avete fatto caso Riva Eccolo lì L'avete visto Che è passato Non c'è il numero Dietro Perché Che gioco Fatto benissimo Guardatelo lì Sul palo Non c'è il numero Dietro Mamma mia ragazzi Manco ste cose No ragazzi Non può Cancellieri Cancellieri Mi ha seguito Un chiede Cancellieri L'ala destra L'ala destra L'ala destra Madonna mia Oggi ho qui Lancio lungo Per Kalinic Che è più veloce Rispetto ai miei difensori Kalinic Un albero fermo E piantato È molto più veloce Rispetto a Kalinic Comunque raga Termina qui la partita Io penso che Molte cose Le avrò tagliate Per fortuna vostra Perché Veramente da brividi Comunque Chiaramente I ragazzi Qui festeggiano Come se avessero Vinto adesso Il campionato Purtroppo Mi sono scordato Di fare i cambi Però Mi hanno fatto Incavolare troppo Quindi Diciamo I nervi Hanno avuto Il sopravvento Questa partita È stata Veramente Una di quelle partite Di FIFA Che è senza difficoltà Puoi mettere Estrema Puoi mettere Principiante È sempre la stessa cosa Comunque raga Festeggiamento Da parte Dei nostri ragazzi Penso che Arriverà La premiazione Perché Altrimenti Sarebbe Assurdo Infatti Eccoli qui Mi dispiace Tra virgolette Che la coppa La alza Frattesi Però è anche lui Un giocatore Bellissimo In quadratura Comunque Anche lui Un giocatore Che sta Dalla squadra base Quindi è sicuramente Considerabile Uno dei capitani Comunque Davidino Frattesi Che è un giocatore Che a me soprattutto Nella realtà Piace parecchio Quindi Sono contento Che alzi lui Il trofeo Al cielo Eccola qui Coppa In aria E bandiere E mani Tutte in alto Per i nostri tifosi Che quest'oggi Addirittura Sotto questa pioggia Di maggio Sono qui Per festeggiare Il Il successo Pazzesco Lo stadio È mezzo vuoto Perché noi abbiamo vinto il campionato Il Sassuolo Ha vinto il campionato Una squadretta Tra virgolette Una squadra provinciale No? Ha vinto il campionato Ma lo stadio È mezzo pieno E non va a festeggiare Nella realtà Sarebbe sicuramente Gremito Ci sarebbe La gente fuori Gente che verrebbe Da ogni parte Del mondo Praticamente Comunque Vabbè Ricordiamoci sempre Che stiamo Giocando Comunque Fuochi d'artificio Che ci stanno benissimo Con questa pioggia Sono Molto a effetto Comunque Sempre molto bello Il trofeo Del campionato Italiano Lo scudetto Italiano Non so come si chiama Il trofeo In sé Comunque Campione Serie A Sassuolo Per il resto Abbiamo fatto Un ottimo percorso In Coppa Italia Peccato Per la sconfitta In finale Purtroppo Oggi doveva essere Una giornata Di festa Però veramente Cioè ragazzi Mi hanno fatto fare un tiro Ma oggi era Impossibile Ragazzi Comunque Stavo dicendo Oggi doveva essere Una giornata di festa Finale di stagione Finale di Coppa Italia Alzavamo Lo scudetto Al cielo Come è successo Adesso Però Peccato Per la partita Di Coppa Italia Comunque Peccato che sono state Due partite così Soprattutto oggi Non si è potuto Giocare Ma Mi andava pure bene Mi dispiace Non essere riuscito A fare una bella prestazione Contro il Piemonte Calcio Questo sì È vero Però Ci può stare Ripeto Non è oggi l'anno Comunque la stagione Che dovevamo vincere tutto E ok raga Adesso che cosa dobbiamo fare Semplicemente Dobbiamo guardare un po' Tutte le statistiche Di fine stagione Come facciamo sempre Voglio arrivare I primi di giugno Così Abbiamo anche Un quadro Più completo Così Terminano anche Tutte le competizioni Europee Comunque Adesso Possiamo Partire subito Chiaramente Col Campionato Di Serie A Concludiamo la stagione Alla fine a 79 punti Che come detto Nella scorsa puntata È pochissimo Per una vittoria Di un campionato Neanche 80 punti fatti Pensa un po' a te Comunque Noi chiaramente Andremo in Champions Insieme a Inter Piemonte Calcio E Napoli E sto vedendo adesso Che a causa Della sconfitta Di oggi Contro Lellas Verona Ho perso La miglior differenza Riccio Comunque La statistica Della miglior difesa Ma per sfizio In Milan Aveva subito Solamente un gol Cioè Quindi raga Madonna Che fastidio Comunque Siamo alla seconda Miglior difesa Dopo il Milan Che ha subito 38 gol 77 gol fatti Siamo In miglior attacco Con Vabbè 25 vittorie 4 pareggi 9 sconfitte Comunque Appunti in Champions Noi Inter Piemonte Calcio E Napoli Lazio E Fiorentina In Europa League E la Roma Andrà in Conference League A pari punti Col Milan Addirittura è stato È stato un campionato Veramente assurdo A tratti Comunque In Serie B Metaforicamente Andranno Salernitana Cagliari E Venezia L'Empel Era arrivata addirittura A pari punti Comunque Andiamo avanti In Coppa Italia Purtroppo ha vinto Il Piemonte Calcio A danni nostri Supercoppa Vince il Bayern Monaco 2 a 0 Contro il Barcellona La Champions Vince il Liverpool 3 a 2 Contro il PSG E l'Europa League Il Forsberg Contro il Tottenham E infine la Conference League 2 a 0 Del Rennes Contro il Lille Per curiosità Visto che sono Masochista Lo Spartak Mosca Ovviamente Ha perso Già i quarti Ovviamente Contro il Piemonte Calcio Poi raga Per quanto riguarda Dei marcatori In Serie A Il Bomber E Arnatovic Stornamente Noi vinciamo Questa classifica Con 19 gol A pari merito Con Raul Jimenez Il nostro Madueke È a 18 gol Poi abbiamo Della Vega Con 13 De Frel Addirittura Madonna Come è forte De Frel Con 12 E basta Il miglior assist Tisman Anonima Due Che 14 Poi abbiamo Che Tia Con 13 De La Vega Con 10 Scendendo Vedo Dine Bimbe Con 6 E De Frel Con 5 Il miglior portiere E Mesiler 15 reti Inviolate In 38 Partite Solitamente Non vinco Mai Questa classifica Ma Quest'anno Ci siamo riusciti Poi Vabbè Cartellini gialli Cartellini rossi Sinceramente Poco ci interessa Allora In Coppa Italia Il miglior bomber È Arnatovic Insieme a Di Bala Sanabre Anche il nostro Nonima Due Che con 3 gol Poi abbiamo Traorei Almate Della Vega Che ne hanno Fatti 2 E basta Sì Il miglior portiere Comunque Il miglior assist E Noni Con 4 assist Poi Frattesi E Traorei Ne hanno Fatti 2 De Frelle Ne ha Fatto 1 E basta Il miglior portiere Consigli Due reti Inviolate È l'unico Che è riuscito A fare Appunto Un punteggio Di 2 Poi Andiamo avanti Con la Coppa Che cosa abbiamo Quella coppa internazionale Non ci interessa La supercoppa Vabbè Doppietta di Sanè Se vi interessa In Champions Il miglior marcatore È Sadio Mané Il miglior assist Asismen Neymar Il miglior portiere Vaklic E Blacodimos E Allison Anche Donnarumma Vabbè Tanti portieri Invece In Europa League Il miglior marcatore Vizca Del Tottenham Insieme a De Tomas Se c'è anche il nostro Edding In Ketia È veramente un peccato Per perso L'Europa League Perché sicuramente Potevamo fare Bellissima figura Comunque Cerchi 6 gol De Freire Ne ha fatti 5 E basta Il miglior assist Sismen Bergost Della Roma Poi Frattese Ha fatto 5 Asis Ketia Della Vega E Madu Vega Ne hanno fatti 4 Poi andando giù Abbiamo Traoré E Cerchi Con 3 E basta Il miglior portiere È Lloris 5 Riti Inviolate Abbiamo anche Il nostro Consigli Con 2 E infine In Conference League Il miglior marcatore È Arauco Insieme a Mopai Addirittura Con le Spagnoli In Europa League In Conference League Chiaramente Dei nostri Non c'è nessuno Gli Assismen Sono Gli Azici E Puado Invece Il miglior portiere Mateus Del Braga È perfetto Abbiamo finito Anche le statistiche Delle competizioni Poi dopo andiamo A vedere anche Le competizioni Estere Adesso Statistiche Della nostra squadra Allora Partendo con i portieri Meslier E consigli Allora ragazzi Meslier Grandissima stagione Grandissimo portiere Ha fatto addirittura Un assist Meslier Me l'ero perso A sta cosa Con 7 Di media voto Lui sicuramente È da confermare Però ragazzi Gli si è bloccata La crescita E mi da troppo fastidio Avere un 23enne Così Con la crescita Bloccata Quindi vediamo un po' Se troveremo Qualche portiere interessante Poi sarà tutto In base ai soldi Che avremo Consigli Che ha perso Due punti Overhaul Sicuramente è stata La sua ultima stagione Con noi Anche se È stato un valido Secondo portiere Ha fatto degli errori Ma a causa Secondo me Della perdita Di statistiche Quindi L'anno prossimo Servirà Un nuovo secondo portiere Poi Cominciamo Con i direzzi sinistri Il primo è Nicola Riva La nostra terza scelta Resterà Anche l'anno prossimo Nella stessa posizione Comunque Più 3 per lui 6,5 di media voto Invece consigli 7 tondo di media voto Anche per lui Avendo giocato solamente La Coppa Italia E l'Europa League Poi 8 nori Più 1 per lui È arrivato a gennaio 9 partite in totale 6,5 di media voto Gudmundson Più 5 stagione Superlativa 31 presenze Nel complessivo 10 partite Con lui in campo A reti inviolate E 6,7 di media voto Iniziamo con i centrali Di difesa Il primo è Perez Una piacevolissima sorpresa Arrivato inizialmente Per fare il sostituto Ma si è preso Subito Praticamente Il posto da titolare E danni di Kumbulla Più 4 per lui E' un 81 6,5 di valutazione Nel complessivo Con 29 partite giocate Paoleta Riserva Di Badia Schill Più 4 anche per lui In 79 Anche un gol Un assist 20 presenze E 6,5 di media voto Badia Schill Più 3 E' un 81 anche lui 31 presenze 13 partite A reti inviolate Con lui in campo E 6,6 di media voto E infine abbiamo Kumbulla Anche a lui Si è bloccata Alla crescita Quindi probabilmente L'anno prossimo Proverò accederlo Mentre due presenze Un assist 6,7 di media voto Poi Godin Il giovane Vabbè Appena fatto salire In prima squadra Più 2 per lui Timber Timber Riserva di Kappa Anche per lui Sicuramente un'ottima stagione Più 2 in 79 E' un sostituto Decisamente di lusso 15 presenze nel complessivo 6,6 di media voto Chi invece continua A stupirmi Alla grande È Kappa Ragazzi Kappa è un giocatore Veramente ma veramente forte Un difensore fortissimo A tratti È veramente Una roccia Purtroppo Ha 31 anni E Però con lui Ci penserei due volte Prima di venderlo Perché se prima Volevo vendere giocatori Che sono giovani E sono degli 80 Però appunto Hanno la crescita bloccata Con lui È un 31enne Quindi è normale Che non cresca E bisogna considerare Che effettivamente È un fenomeno In mezzo a campo È veramente Una sicurezza Comunque 35 presenze nel complessivo 1 assist 6,6 di media voto Iniziamo con i centrocampisti Prima Davidino Frattesi Più 4 in 77 18 presenze Nel complessivo 4 gol 9 assist 7,3 di media voto Ilic Più 4 79 26 presenze 1 gol 5 assist 6,8 di media voto Mateus Enrique Più 2 È un 82 37 presenze 3 gol 3 assist 7 Nella valutazione complessiva Teoricamente Lui è il nostro capitano È sicuramente Un punto fermo Matteo Pessina Grandissimo acquisto Nel mercato estivo Più 3 È un 84 39 presenze 5 gol E un assist 6,8 di media voto Linee bimbe Quindi iniziamo con il COC Più 5 Per lui 37 presenze 5 gol 8 assist 7,2 di media voto Junotraoré Più 4 È un 80 Anche lui 27 presenze 3 gol 7 assist 6,9 di media voto Iniziamo adesso Gli attaccanti Si inizia con le ali sinistre Il primo è il giovane Cartier P1 per lui Appena portato in prima squadra Anche 3 presenze quest'anno Comunque Tiago Almada Più 5 17 presenze nel complessivo 17 gol 15 assist 7,3 di media voto La sedia che continua a far rumore Comunque Redondo Più 12 Addirittura effettivamente Ha avuto Una crescita sproporzionata 75 di overhaul Ancora 18 anni 13 presenze 3 gol Leone assist 6,3 di media voto Il mio amore eterno Gregor De Frel È un giocatore assurdo ragazzi Anch'io non capisco Come faccia ad essere così forte Comunque È diventato anche un 80 28 presenze 17 gol 6 assist 7,1 di media voto Decisamente Una sicurezza Cerchi Più 5 84 35 presenze 11 gol 8 assist 7,1 di media voto Edding Kitia 24 anni Più 5 1,81 È stato sicuramente Un acquisto a parametro 0 Veramente Ma veramente intelligente 33 partite 16 gol 17 assist Addirittura più assist Che gol Comunque 7,2 di media voto E infine Noni Madueke Più 6 È appena diventato 1,86 In estate Con lui sicuramente Il prezzo Sarà assurdo Ancora 21 anni 34 presenze Quest'anno 23 gol 22 assist 7,8 di media voto Il giocatore Con la valutazione Più alta Chiaramente Comunque Il giocatore Che quest'anno Ha giocato di più È Della Vega Con 40 partite Il miglior Marcatore È Noni Con 23 Poi abbiamo De Frelle Della Vega Ancora Il miglior Kumbulla Kappa 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 Ci può stare Come detto prima Poi abbiamo De Frelle Anche lui Ci può stare E basta Quindi Alla fine Solamente Meslier E Kumbulla Che hanno La crescita Bloccata Ingiustamente Tra virgolette Perfetto Adesso per concludere Andiamo a vedere I campionati Stranieri E soprattutto Se abbiamo soddisfatto Gli obiettivi Della dirigenza Anzi Vado a vedere subito Perché va a finire Che poi mi dimentico Comunque Allora Ci avevano chiesto Con priorità Alta Di ingaggiare Tre giocatori Con meno di 20 anni Con un potenziale Superiore Alla valutazione media Questo qua L'abbiamo fatto Acquista Due giovani Per la prima squadra Entro due stagioni Schiere In dieci partite A gara in corso Adesso qui Non ce l'abbiamo fatta Ma abbiamo Ancora la prossima stagione Aumento il livello Di esperienza Questo non ve lo leggo Manco Perché è assurdo Che ci vogliono Far invecchiare la squadra Comunque Aumento il valore Del tuo club Del 30% Questo l'abbiamo fatto subito Successo in patria Raggiungi i quarti E qualifichi per una competizione europea Siamo arrivati in finale di Coppa Italia E vinto il campionato Quindi Meglio di così Non si poteva fare E infine In Europa League Paradossalmente Ci volevano in finale Però siamo arrivati Solo agli ottavi Obiettivi molto strani E molto Incongruenti L'uno all'altro Non so che cosa ho detto Comunque Andiamo a vedere Gli altri campionati Partiamo dalla Francia Partiamo dalla serie B Francese Con I Lorient Che vince il campionato E insieme a Brest Vola In Ligue 1 Ligue 1 Che ha visto trionfare Stranamente Il Paris Saint-Germain 96 punti Il Monaco Al secondo posto Lione Terzo Marsiglia E il Rennes Teoricamente In Europa League Anche se il Rennes L'ha vinta La Conference League Comunque Sicuramente In Europa Avremo le prime 6 Di questa Di questa classifica Comunque Nelle ultime posizioni Abbiamo Il Clermont Che dovrà fare I play out Poi il Trois E il Gamp Che ha fatto Solamente 7 punti Poi In Bundesliga Trionfa il Bayern Monaco 89 punti 20 punti Differenza Rispetto al secondo posto Occupato Dall'Iverkusen Che andrà in Champions Insieme a Forsberg e Borussia Dortmund In Europa League Lipsia E Mochengladbach Ertabellino Teoricamente In Conference Con Hamburgo E Düsseldorf Retrocess E il Mainz A fare I play out Iniziamo con I campionati inglesi Il primo È la League 2 Con il Stafford City Che vince il campionato E vola In League 1 Insieme a Newport E l'Hackrington Poi col Chelsea Walsall Oldham E Bristol Rovers Faranno i play off Negli ultimi posti Abbiamo il Sutton E l'Exeter L'Exeter Un pochino godo Visto che è stata La nostra bestia nera Ai tempi del Bolton In League 1 Invece Trionfa il Birmingham Con Diciamo Grandissimo merito Poi Sheffield In Championship Poi una fra Portsmouth Lincoln City Ipswich Il Plymouth Infine Retrocedono Leighton Orient Barton E anche Donz E lo Shrewsbury Invece In Championship Trionfa il Fulham Che insieme al Norwich Sale In Premier Poi Watford West Brom Brandford Stock City Faranno i play off Retrocedono Vediamo un po' L'Arc City Il Bolton Che peccato E anche il Blackpool Infine In Premier League Vince il Manchester City West Ham Secondo ragazzi West Ham Secondo in classifica Il nostro West Ham Prima carriera fatta L'anno scorso Su FIFA 21 Secondo posto In classifica Evidentemente Ci avevamo visto lungo Comunque Andrà in Champions Insieme al Manchester E all'Everton addirittura Poi Liverpool Leicester In Europa League I Chelsea In Conference E' stato un campionato Particolarmente strano Secondo me Poi retrocedono Il Bournemouth Lo Sheffield E Nottingham Forest Anche qui Campionato vinto A pochissimi punti Ma in Inghilterra E' già una cosa Molto più normale Che capita più spesso Essendo Un campionato Molto più Competitivo Comunque In area divise Trionfa l'Ajax Il PSV Secondo in classifica Final Di Utrecht Che andranno In Europa Penso anche Insieme Alla Z Alkmar In Portogallo Trionfa lo Sporting 88 punti Secondo posto Il Benfica Poi Porto Braga Terzi e quarti Poi andiamo Avanti Con la Spagna Con addirittura Il Siviglia Che vince Il campionato 78 punti E' stata una stagione Veramente strana Con il Real Madrid E il Barcellona In Champions Insieme al Bilbao Poi Madrid Atletico Madrid E il Balencia In Europa League Serta Vigo In confidence E' perfetto Abbiamo visto anche La carrellata finale Adesso Che cosa dobbiamo fare Niente Perché per oggi Si conclude qua Questa puntata Nella prossima puntata Inizieremo subito Con la schermata Di termine la stagione Inizieremo subito La terza E decisiva Stagione Dico decisiva Perché Mi aspetto Grandi cose L'anno prossimo Speriamo che Tutte le partite Non siano come queste due Viste quest'oggi Anzi In realtà Quella contro il Piemonte Calcio Ci stava pure Il problema è che abbiamo perso Dispiace perdere in finale Come detto prima Però Se sono tutte come quella lì Contro l'Ellas Siamo rovinatissimi Comunque raga Io per oggi Mi fermo qua Nella prossima puntata Inizieremo subito Con la schermata Di termine la stagione Quindi Io vi invito a lasciare un like Un commento Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Seguimi sulla pagina Instagram Noi ci vediamo Ad un prossimo episodio E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti